Il 22 agosto Serra dei Conti torna per una notte a spegnere l'illuminazione pubblica perché torna a Notte Nera la non edizione. Sì, è un modo anche un po' alternativo, mentre tutti accendono i riflettori noi li spegniamo, ma in realtà ci saranno tante piccole lucine a led che illumineranno i percorsi del Centro Storico del Borgo di Serra dei Conti che si animerà di spettacoli in ogni angolo, in ogni scalinata, in ogni piazzetta. E questo ha avuto un buon esito negli anni passati e ci incoraggia molto anche per il futuro.